Presente questa mattina in piazza De Andrè anche l'onorevole Luca Sanmartino che parla degli ultimi eventi che hanno riguardato la politica gerrese dall'opposizione dei suoi al sindaco di missionario Roberto Bonaccorsi sino alla candidatura di Tania Spitaleri. La candidata non è dell'ultima ora, Tania si è messa a disposizione di un gruppo dirigente che pensava, infatti ha scelto Tania come rinnovamento di una classe dirigente gerrese per aprire una nuova fase che io potrei definire la primavera gerrese dopo un periodo fatto di gialli, come anche Tania ha appena definito gli ultimi due anni e l'amministrazione Bonaccorsi, non è imputabile a me il fatto che un sindaco si sia dimesso io ho semplicemente tenuto la posizione di chi ha deciso di mantenere una linea di opposizione all'interno del Consiglio Comunale, nulla di personale con il sindaco uscente semplicemente una valutazione di carattere politico e amministrativo su una città che si era spenta e si è spenta negli ultimi due anni più che mai. Giarre deve ritornare a essere il volano del comprensorio ionico per la costituente e anche area metropolitana permettendo sia una mobilità integrata che uno sviluppo del territorio che riguardi a Giarre come capofila appunto della ionica. Come mai questo interesse per Giarre ultimamente? Sono parlamentare di questa provincia, il mio interesse è per Giarre come per altri comuni della nostra isola fare il parlamentare, essere anche giovani vuol dire portare la responsabilità di quello che si fa sui territori e di quello che si vuole creare sul territorio. Secondo me troppo tempo si è perso, oggi siamo su Giarre, domani saremo un altro comune l'interesse è accompagnare le nuove generazioni e amministrare processi politici e amministrativi che siano in grado di risollevare le sorti di tanti cittadini. Molti sostengono che Giarre sia una terra di conquista per tanti politici che non sono propriamente già resi nel suo caso ma anche politici chiaramente del passato. Cosa vuole rispondere a queste persone? Lo è stato e lo è stato per troppi anni. Se doveva essere terra di conquista non saremmo stati qui oggi a parlare di nuove elezioni. Abbiamo dimostrato di non essere interessati a posizionamenti di giunto o altro, abbiamo avuto l'unico interesse di fare svegliare Giarre e di proporre un'alternativa valida che è Tania Spitaleri.